fidarsi o non fidarsi della persona giusta in fase di manovra per entrare ho fatto via antonio lazzarini in retro con svirgola e il volvone e poi dal piazzale inghiaia su in cima il lato destra ho girato a sinistra in avanti devo uscire in retro da quel cancello lì attenzione quelle ruotate lì per terra non le ho fatte in manovra con il camion ma le ho fatte con il muletto perché lo spazio molto ridotto non mi permetteva di passare sulla terra battuta ora inizia la fase occhio non prender dentro occhio quell'albero occhio svirgola e occhio il volvone a non fare danni il signore evidenziato con la freccia verde è colui che con i due occhi in più mi darà una mano ad uscire senza fare danni il rumore che sentite che sembra un elicottero in realtà è il muletto che ho portato fuori prima e che lo vedete lì nella destra che ho tolto per evitare di essere un metro e dieci più lungo ancora svirgola è un gran semirimorchio però più lo fai chiudere più fai fatica a raddrizzarlo e nel mio caso il lato destro diventa un angolo cieco drizza drizza e molto spesso succede di non sentire la persona a terra che continua a urlare fermati fermati oppure raddrizza come in questo caso ora inizia la fase un po' più complicata devo riuscire a buttare il posteriore di svirgola dove c'è quel cerchio lì evitando di buttare giù nell'angolo cieco a destra il cancello vieni vieni ora cerchiamo di schivare quelle due transenne anche perché altrimenti non riesco proprio ad uscire da questo buco ora in teoria dovrei farcela speriamo bene adesso non riesco a schivarlo vieni vieni sì 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 eh sì in questo luogo qui con svirgola e il mio volvone proprio non ci stavo era più lungo il camio rispetto al piazzato e anche per oggi abbiamo terminato questo video io vi ringrazio se avete seguito il video fino a qui commentate lasciate un like e se non siete ancora iscritti al canale cliccate iscriviti ciao a tutti al prossimo video ciao ciao